e stanotte il cielo si tinge di blu i blues celsi campione d'europa bello 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 ci speravo ci speravo è andato a finire così sinceramente mi aspettavo più golle mi aspettavo che il city facesse di più il city praticamente ha fatto in 90 minuti poco pochissimo non so se poi è uscito De Bruyne qualcosa è cambiato non capisco la scelta di Guardiola di lasciare Gabriel Jesus e Aguero addirittura in panchina non lo so non è che seguo tanto il city sinceramente è stata una sua scelta tecnica poi è ovvio che lì non è che è stato bravo anche il celsi tu che lì ha fatto una partita molto studiata bene una partita di per se il celsi ha meritato ha strammeritato di vincere questa finale insomma diciamo che in certo senso il celsi è una squadra è una squadra outsider nessuno aspettava una vittoria tutti diciamo Bayern Monaco PSG Manchester City Real Madrid ma il celsi nessuno ci avrebbe scommesso un euro sul celsi caspita complimenti complimenti al celsi seconda coppa seconda coppa la stessa della juve tra le altre cose seconda coppa in tre finali tra le altre cose in tre finali nel giro di circa 15 anni era da Abramovic insomma ha messo un po di soldi nel giro di pochi diciamo di due decenni ha vinto due Champions League niente male due Champions League è quanti campionati due o tre campionati insomma cioè sì non è un'unica squadra che vince sempre però vince vince bene insomma ecco poi vabbè poi dopo nella seconda parte di video parlerò di dell'intro poi dopo prima della partita ma Kante che giocatore è Kante mamma mia mamma ma Kante Kante veramente forte veramente forte non è che l'ho visto sempre giocare l'ho visto giocare solo in Champions League praticamente adesso e nelle semifinali diciamo le fasi finali ma mamma mia un giocatore che è dappertutto e dappertutto in difesa centrocampo in attacco è impressionante questo giocatore impressionante veramente insomma niente male poi più che altro e Werner Werner era deluso Werner invece ha fatto una ciccata nel primo tempo è stato poco lucido è stato poco lucido sono stati bravi in centrocampo in difesa hanno gestito palla insomma nel complesso il Chelsea ha fatto una partita che doveva fare sostanzialmente perché il City di per sé basare i blocchi Sterling i blocchi che era Sterling che era l'altro ah e Coso magari si chiama quello lì Foden alla fine sono loro due i più diciamo pericolosi bloccati bene poi non so De Bruyne alla fine lì bisogna sempre vedere De Bruyne se non fosse uscito dal campo magari alla fine De Bruyne è uno dei più pericolosi anche lì ha deciso un po' le sorti della partita certo il Chelsea poi ha giocato senza Tiago Silva praticamente tutta la partita diciamo in fin dei conti due infortuni abbastanza la pari abbastanza la pari perciò però Guardiola non sarebbe forse studiata bene questa finale sarà che comunque Manchester City è la prima finale della sua vita che fa di Champions perciò Guardiola ne ha fatte un sacco neanche vinte col Barcellona perciò insomma io sono contento per lo stesso perché ti favo Chelsea diciamo la meno peggio anche se tu che non mi fai tutta questa simpatia però di per sé la fine ha meritato di vincere con poco anzi ha avuto occasione clamorosa occasione clamorosa al di là del gol che poi minchia era una pateria il secondo gol nel secondo tempo stava per arrivare quindi ha avuto occasione più più ghiotte il Chelsea in confronto al City perché qualche traversone il tiro sballato niente di così incisivo no per segnare quindi insomma solo la tensione diciamo dalla partita ecco se io fosse un tifoto del Chelsea al contrario avrei sofferto come un cane in ultimi minuti perché sette minuti di recupero porca miseria se non finissero mai comunque ragazzi complimenti al Chelsea campione d'Europa e noi in altro anno che stiamo a guardare noi italiani anche internisti di per sé perché comunque quello che io sostengo sono sempre quelle le cose che sostengo ma poi farò poi un video a parte farò poi un video a parte per quanto riguarda sta storia quasi conte non conte in zaghi su un ing ecco varie storie perché quello che vorrei dire io è che secondo me secondo me se conte fosse rimasto un cante ce lo saremmo anche preso o un tentativo sarebbe stato fatto secondo me ora conte sarà andato per questi motivi qua perché se non dipendi sui giocatori se gli sfasci la squadra è vero che magari poteva rimanere perché comunque però è ovvio che è un vincente un vincente vuole rimanere per vincere non per lottare per il quarto posto perciò ragazzi scusa parentesi poi ne parleremo più avanti siamo finita la stagione ufficialmente dei club e poi parleremo di nazionale insomma vediamo poi quando ci sarà qualche ufficialità oggi si parla di di akimi al psg quasi sicuro però insomma varie storie che di cui adesso non vogliamo parlare facciamo i complimenti al celsi l'outsider l'outsider del di questa coppa fa piacere con qualche outsider vinca certo certo celsi non è che sia una squadra come via real eh voglio dire una squadra che che ha denaro non sono messi neanche poi così male ecco perciò perciò vero che poi in confronto agli sceicchi del manchester city è un'altra cosa il city ha vinto vinto tutto praticamente da quando si arriva dei sceicchi così come anche il celsi quando quando aveva Abramovic però comunque il celsi è già più mi sa già un po più simpatico sinceramente anche perché il celsi ha avuto anche tanti allenatori italiani di per sé vialli di matteo e lo stesso conte che ha avuto anche di matteo conte sarri addirittura quindi zola caspita quindi diciamo il celsi è quasi diciamo a quel filo di italianità e giorginio di per sé italiano italiana comunque c'è anche il nostro caro ex kovacic campione d'europa pensate ha vinto due ha vinto due campioni su questo senza fare un cazzo corre a madrid e col celsi da panchinaro bello così bello insomma comunque ragazzi grande celsi complimenti al celsi campione d'europa noi ci vediamo prossimamente e e vediamo un po cosa succederà poi con la nostra anziana italiana varie varie news domani sempre secondo me si iscrivetevi al canale saltami bene buonanotte buona domenica ciao